Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video voglio porvi una domanda perché secondo voi i simulatori di ultima generazione hanno implementato delle features in cui si ha la possibilità di fare la selezione e il filtro delle persone che corrono insieme a noi o meglio perché possiamo fare server privati con password perché ci sono dei ranking perché ci sono dei punteggi di comportamento perché ci sono queste classifiche di comportamento in cui si può decidere che certe persone che non fanno parte di un certo ranking o livello non possono correre insieme a noi vi rispondo subito e questa è la mia opinione e così entriamo nell'argomento principale di questo video semplicemente perché? perché le persone che girano sui simulatori sono anni che richiedono agli sviluppatori di poter fare la cernita delle persone che si sanno comportare e quelle che non si sanno comportare in pista ed è per questo che approfondiamo l'argomento comportamento in pista faccio questo video perché sono stato sollecitato dai ragazzi di SimDrivers perché sapete come al solito nei campionati ci sono sempre un po' di incidenti che capitano divergenze di vedute opinioni diverse insomma sempre casino i ragazzi succedono perché purtroppo e dico purtroppo la gara perfetta non esiste ci sono sempre un paio di incidenti un paio di problemucci e purtroppo siamo esseri umani il simulatore non è perfetto e quindi di conseguenza possono succedere problemi in pista allora vorrei riprendere questo argomento per approfondire un attimino quello che avevo già trattato appunto il comportamento in pista partendo dal presupposto che diciamo le regole basi fondamentali di quello che è il regolamento sportivo che generalmente anche se ci sono qualche diciamo sfumature tra un regolamento e un altro sono praticamente simili cioè vietato appoggiarsi a una macchina per girare le sportelate contatti andare contro senza eccetera questo penso che sia assodato un po' per tutti però un qualcosa che il regolamento non spiega è che probabilmente non tutti dicono o che non hanno la possibilità di spiegare a chi corre insieme agli altri cioè parlo di quelli che hanno meno esperienza è quello che prima di scendere in pista e di iniziare una gara bisognerebbe riflettere ad alcune cose che probabilmente non vengono in testa la prima è che dall'altra parte la macchina che vedete è guidata da un'altra persona e questo sia diciamo la tendenza a dimenticarlo ed è veramente un peccato perché ricordiamoci che quando siamo in multiplayer online multigiocatore online vuol dire che c'è qualcuno dietro un altro computer che sta guidando seconda cosa uno si dimentica facilmente che comunque il tempo che noi abbiamo speso per allenarci lo hanno fatto anche gli altri il tempo è un qualcosa di prezioso e soprattutto l'impegno che si è messo il fatto di scervellarsi per il setup o la strategia fa parte di tutto quello che è questo tempo impiegato ed è un peccato se qualcuno ci viene a tagliare l'erba sotto i piedi perché alla prima curva non si è in grado di anticipare la frenata e di usare quelle benedittissime celle di carico che costano un botto di soldi proprio per fermare la macchina inoltre non tutti spiegano che le gare vanno ragionate prima di iniziarle non si ragiona quando il semaforo si spegne e si parte ben prima e non parlo solo di strategia gomme e carburante ma bensì di dove mi andrò a situare quali sono le mie potenzialità in pista questo argomento qua è un qualcosa che dovrebbe essere naturale per chi inizia il mondo della simulazione o chi segue il motosport perché parliamoci chiaro se io faccio 1,50 su un giro e il mio avversario che mi sta davanti fa 1,49,9 ovviamente quel decimo di secondo si può andare a recuperare quindi so che potrò andare a lottare con lui e magari siamo a metà classifica in termini di qualifica ma come posso pretendere di andare a prendere il primo che mi dà due secondi a giro? sono sicuro che a metà gara mi sta raddoppiando quindi la domanda che mi chiedo ma allora perché? perché ci sono delle persone che non riflettono al fatto che è inutile andare a kamikaze sulla prima curva per andare a prendersi la prima posizione perché tanto prima o poi se tutto va bene perché davanti a te ci sono 19 lupi inferociti come a te che cercano di prendersi la prima posizione ma prima o poi ti vengono a prendere cioè come posso pretendere io che giro 3 secondi più lento rispetto al primo o 2 quanti sono di poter scappare via ciao ciao ormai sono primo ma no ragazzi allora riflettiamo su questo discorso qua quando scendete in pista riflettete mamma mia che tempo ha fatto il primo 1.18 io 1.24 mamma mia mi dà 6 secondi ma dove devo andare? ma per quale motivo dovrei prendermi il rischio di andare alla prima curva al primo staccatone a prendermi la prima posizione c'è praticamente l'1% delle possibilità che vada tutto bene 99% vuol dire sempre c'è un macello c'è un macello c'è un incidente succede il casino quindi riflettete a questo oltretutto se facciamo il calcolo dei metri distanza di frenata eccetera eccetera è un discorso che ho già fatto per quanto riguarda la frenata e il comportamento in pista che trovate sempre sul canale simdrivers.eu se quello sta frenando siamo a 200 all'ora e sta frenando a 100 metri io devo frenare minimo a 150 moltiplicate per tutte le auto che sono davanti a voi pensate quanto dovete anticipare la frenata e voi siete i furbi della situazione mi ci metto pure io siamo i furbi della situazione e andiamo in in mega staccata per andarci a prendere la prima posizione dai ragazzi cerchiamo di riflettere in modo intelligente pensare che probabilmente bisogna accodarsi e che se veramente abbiamo le possibilità di rimontare perché per x ragioni ci siamo trovati troppo indietro rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità allora in questo caso dovremo studiare in modo intelligente di come rimontare quelli che ci stanno davanti senza regare danno prima a noi ma anche a loro e soprattutto cercare di uscirne indenni perché lì davanti ci sono i lupi come a noi con i canini di fuori che vogliono andarsi a prendere la prima posizione poi oltretutto trovare il ritmo di gara perché se io sono sempre a manetta ma secondo voi le gomme le gomme non terranno mai il consumo gomme il vostro stress psicologico e fisico cioè non terrete mai certo se è una gara di 5 giri non stiamo neanche a parlarne ragazzi ma se cominciamo ad avere mezz'ora un'ora di gara o comunque delle gare abbastanza importanti ragazzi non ci arriverete mai a fine gara mai uscite sicuro perdite concentrazione stanchezza lucidità lucidità ragazzi quindi prima di fare qualsiasi cosa ricordiamoci che abbiamo una cella di carico in mezzo qui sotto ai nostri piedi che si chiama pedale del freno e bisogna premerlo in anticipo rispetto a chi ci sta davanti una regola d'oro poi ragazzi e chiudo il discorso è che il nostro primo avversario è quello che ci sta davanti subito davanti se è il quinto è il quarto è ovvio che se ho l'occasione di passarne due e sono sicuro al 90% di non toccare nessuno allora passo ma se supera il 10% diciamo di rischio lascio stare tanto se non lo supera a questa curva lo supererò alla prossima quindi terminando il discorso ragazzi se siete d'accordo con me perché queste sono le mie opinioni personali è un argomento che avevo già trattato non esitate a lasciare un commento qui sotto c'è una bella funzione commenti per dirmi cosa ne pensate parlarmi delle vostre esperienze o magari aggiungere qualcosa in più da dare come consigli a chi debutta appunto nel mondo della simulazione per cercare di evitare al massimo possibile i problemi delle prime curve e del pedale del freno mancante o dimenticato ovviamente noi cerchiamo di condividere le nostre esperienze non esitate a fare la stessa cosa se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale tanto è gratuito e attivate la campanellina ragazzi tanto è gratuito noi ci vediamo al prossimo video da Fabrice è tutto ciao 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 ciao